. 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 chissà che c'è sotto di me dai miei piedi sento qualcuno che mi chiama allora io mi prenderò un po' di patate da qualcuno di voi guarda questo sono quelle che sono rimaste vuoi il mio pollo? no, lavati le mani e poi metti le mani nel mio piatto no, no, con le mani no con le mani, con le mani ciao ragazzi, com'è? stai a posto? oggi mangiamo cotolette e patate cotolette e patate ha detto che la cassa vuoi non lo specifico come state? ciao ragazzi tra poco vado in live io poi sul mio profilo quindi mi raccomando che ha cucinato? ha cucinato il nostro Dome complimenti a te comunque per la cucina le patate manco le ho viste più sono sparite